... Lo stopper della dritta del piocco di cui ti ho detto è questo qua Per regolare un po' la tensione noi abbiamo preferito comunque portarla qui Allora, è importante usare la radio VHF correttamente? Il punto della cima, dell'adrizza principale lassù in alto e delle varie culecce In chiaro le adrizze, l'importante è che appunto in caso di necessità siano pronte per essere utilizzate per amminare le vede Va bene, breve carrellata sui nodi, cominciamo dal primo, il più semplice 22, va bene, a 6 nodi per cena ci siamo di sicuro Grazie a tutti